Ehi ragazzi, io sono Lavero e oggi vi aggiorno su un paio di novità che riguardano il canale, che riguardano me e... e basta Allora, per cominciare vi voglio dire che ho raggiunto i miei primi 500 iscritti e sono felicissima Oh che bello! Lo so, per certa gente non è niente 500, io sono entusiasta di essere arrivata a questo punto e sono felicissima Sono una Pasqua! E per questo vi voglio ringraziare per essere rimasti con me, per avermi sopportata E non vedo l'ora di continuare questo, spero, lungo lungo viaggio nel mondo di Youtube che mi sta piacendo tantissimo Mi sta dando molte soddisfazioni e chissà dove andiamo a finire, dai, puntiamo in alto! Ma soprattutto spero di avervi sempre al mio fianco, vi adoro ragazzi! Seconda grande notizia, sabato 11 giugno, segnatevi la data Sarò a Como al Chip Comics and Games La prima fiera del fumetto di videogiochi di Como Nella quale durante il pomeriggio terrò una super mega conferenza, più o meno Dedicata ai videogiochi, al cinema Ed insieme a me potrete trovare Antonio Cianci, la raccatta film Col quale ho fatto i miei due commenti shock su Psycho e sulla Città Incantata E i ragazzi di Bastardi Senza Cinema con i quali ho fatto le recensioni live di Batman contro Superman e di Hardcore In ogni caso vi lascio un link qua sotto nella descrizione che vi porta direttamente alla pagina ufficiale della fiera Nella quale potete trovare tutte le informazioni E-mail per scrivervi ai cosplay, e-mail per avere stand, anche quello Ehm... Indirizzi, perché anche quello è importante Ehm... sennò dov'è? Quindi se mi volete incontrare, se avete voglia di passare, salutare, eccetera eccetera Venite, mi farebbe un gran piacere, soprattutto se siete di Como o dell'aria Dai, cosa vi costa? Niente, perché questa fiera è gratis Ed infine Uuuu L'ultima grande, grande notizia Che vi voglio dare Ah, lo so nella pelle Finalmente, dopo un lunghissimo periodo di preparazione e di attesa Mi trasferisco a New York E questo significa che avrò l'occasione di darvi recensioni, diciamo in anticipo Su film che sono già usciti in America, ma che sono ancora inediti qua in Italia E quindi voi sarete i primi a sapere se un film sarà buono o brutto Se risparmiare i vostri soldi, eccetera eccetera Ah, non vedo loro Quindi con questa grande, grande notizia Vi ringrazio ancora di essere del mio team E spero veramente che questo viaggio su YouTube sia uno lungo E prosperoso E divertente, entusiasmante E... E basta Quindi per oggi è tutto, un bacione e alla prossima